Dopo una lunga trafilla durata più di dieci anni per ottenere le necessarie autorizzazioni, la Policentro d'Aunia chiede aiuto ai siciliani per finanziare il progetto del Partinico Shopping Village. Le banche sono disposte a finanziare solo metà del progetto, circa 35 milioni di euro. Per questo motivo il presidente di Policentro d'Aunia, Lino Iemi, lancia l'idea dell'azionariato popolare per reperire i restanti 35 milioni. Chi ha risparmi, chi ha la possibilità da mille euro in avanti, da un milione di euro in avanti, non c'è limite in questo, credano in questo progetto, li facciamo entrare direttamente nell'azionariato con la trasparenza che occorre per queste cose, sicuri che mettono i soldi non in una palude ma in una costruzione virtuosa, la quale è palpabile, è visibile, che nella peggiore delle ipotesi anche durante la crisi rendono il doppio di quello che possono rendere quando li mettiamo in un istituto bancario ma essenzialmente per dimostrare al mondo che c'è un atto di solidarietà e di ribellione da parte della popolazione dicendo se le strutture istituzionali e bancarie non sono in grado di funzionare noi facciamo il fai da te, ci arrangiamo da solo perché non vogliamo rinunciare allo sviluppo e non vogliamo continuare ad impoverirci. Il Partinico Shopping Village garantirebbe tra diretto e indotto la creazione di circa mille posti di lavoro, una vera e propria boccata d'ossigeno per un'economia sfittica come quella partinicense. Prevista la costruzione di un centro commerciale, un albergo, un centro congressi e impianti sportivi, reperiti i fondi ci vorranno circa due anni per inaugurare il centro di Contrada Marge a Partinico che dovrebbe sorgere su un terreno di 315 mila metri quadrati.